Sì, è ottenuto! E principalmente... Oh! 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 Io ho visto un pallone che si è buttato di sopra! Ah! 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 Non c'è che fallo! Tutte l'ulura! Oh! 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 C'è scritto Calambria in Ambrio Sport! Ambrio Sport Calimero! Oh! 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 Scusate! 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 Oh. Oh! È entrata! Tutti quanti in pro moto! Oh! Oh! Vado un vincente! Se la pari si ritaccato segnato! Oh! Vado un vincente! Oh! Sì, è il vincente! Oddio vinceva! Oddio ci vanno! Oddio ci vanno! Esattamente, shot heads. Quando ero al rino, ti ricordi? Mi ricordo... Mi ricordo di tutto questo. Mi ricordo di una cosa quant'era? 100 euro ho preso. Chi è tu? La Juventus. È grande. Forte del centro. Fincione. 11-3. Esatto. Antonio, è sbagliato. Improvare niente. Il rimane uninski. E' un primo che sbagliato. Questa è inizia tra. Questa è l'unza. Ma non c'è l'unza, non c'è l'unza. La situa è l'unza. Già l'unza. Non c'è male, non c'è male, non c'è male, non c'è male. Non c'è male, non c'è male, non c'è male, non c'è male. 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 Non c'è male.